Ciao ragazzi, ben trovati. Uno dei principali argomenti della storia del Novecento, come saprete, è la Guerra Fredda, ovvero quel lungo periodo di tensione e rivalità che inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale fra le due superpotenze vincitrici della guerra, ovvero gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e la conseguente formazione di due blocchi, il blocco filoamericano e il blocco filo-sovietico, che riuniscono vari paesi del mondo che sono alleati o con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica. Questa divisione tra le due frazioni, quella filoamericana e filo-sovietica, è particolarmente evidente in Europa, come possiamo osservare anche da questa mappa. L'Europa praticamente è un continente diviso dalla cosiddetta cortina di ferro, ovvero quella immaginaria linea di separazione, che divide appunto i paesi dell'Europa dell'Est, che sono all'interno del blocco filo-sovietico, quindi che subiscono l'influenza dell'Unione Sovietica, e invece i paesi dell'Europa dell'Ovest, che stringono rapporti di alleanza politica, militare ed economica con gli Stati Uniti, da cui ricevono tra l'altro anche i finanziamenti del piano Marshall. Ecco, a proposito della guerra fredda, ricorrono molto molto spesso due espressioni, capitalismo e comunismo, che in realtà sicuramente avrete sentito pronunciare, avrete letto, anche al di fuori della guerra fredda, cioè anche in riferimento ad argomenti precedenti. Infatti sono due concetti che non riguardano soltanto la guerra fredda, ma identificano due diversi modelli economici, due diversi sistemi economici, che saranno però contrapposti fortemente l'uno all'altro proprio nel corso della guerra fredda. Allora, in questa video-lezione cercheremo di spiegare un po' meglio che cosa si intende con capitalismo e cosa si intende con comunismo, e perché queste due espressioni sono quasi sempre, molto spesso, associate il capitalismo al blocco filoamericano e quindi agli Stati Uniti e il comunismo al blocco filo-sovietico e all'Unione sovietica. Sono due concetti molto complessi, molto particolareggiati, il loro significato fra l'altro cambia moltissimo da un'epoca all'altra e da un contesto geografico all'altro, quindi in questa video-lezione non è che analizzeremo tutti i dettagli, ma cercherò, anche semplificando, a volte addirittura banalizzando, però cercherò di darvi un'idea generale di cosa significa capitalismo, economia capitalista, e cosa significa comunismo nelle sue varie accezioni. Allora, partiamo innanzitutto con una serie di definizioni prese in prestito dall'Enciclopedia Treccani. Allora, con capitalismo si intende quel sistema economico che è fondato sull'impiego, sull'utilizzo di un capitale. Il capitale corrisponde a una somma di denaro, o comunque a una serie di beni materiali, che vengono utilizzati allo scopo di sviluppare delle attività, delle attività lavorative, dirette alla produzione di beni, quindi qualcosa che sarà poi venduto, qualcosa che arriverà sul mercato, che sarà offerto a un pubblico, e di fornire quindi un profitto, ovvero un guadagno, a chi ha impiegato tale capitale, ovvero il capitalista. Cioè le persone che possiedono del denaro, dei beni materiali, li investono in un'attività lavorativa, sono definite capitaliste. Lo sviluppo capitalistico, ovvero il funzionamento di questo sistema economico, il capitalismo, avviene quando nelle loro imprese, nelle loro attività economiche, i capitalisti, dopo aver pagato le spese, ovvero aver acquistato i macchinari o le materie prime che servono per quella industria, dopo aver retribuito i loro dipendenti, operai, impiegati e via dicendo, e dopo aver venduto quindi le merci prodotte, cioè dopo aver ricavato del denaro dai beni, dai beni messi sul mercato, ottengono un profitto, un guadagno. Ok? Questo profitto è definito surplus e questo surplus viene reinvestito nella stessa attività lavorativa andandola ad allargare, ad ampliare e quindi migliorando il ciclo produttivo. In sostanza più un'attività guadagna, quindi più va bene, più riesce a rafforzarsi, più riesce a espandersi e quindi a creare potenzialmente un circolo virtuoso per cui questa attività lavorativa del capitalista andrà sempre meglio, guadagnerà sempre di più. Infatti in un sistema capitalista lo scopo perenne di chi partecipa appunto all'economia capitalista è quella di superare la concorrenza, è quella di avere più successo dei suoi concorrenti. Il capitalismo è un sistema economico basato sulla concorrenza e molto spesso su quel concetto che è il libero mercato, poi vedremo bene che vuol dire. Allora, il capitalismo vero e proprio, cioè inteso in senso moderno, perché in realtà il capitalismo in qualche modo è sempre esistito, però il capitalismo inteso come lo intendiamo oggi in maniera molto simile, lo possiamo ricondurre all'epoca delle rivoluzioni industriali, quindi la prima rivoluzione industriale del 1700 e poi la seconda rivoluzione industriale del 1800. È in questo periodo che, soprattutto dalla classe borghese, abbiamo numerosi capitalisti, ovvero persone dotate di denaro, che iniziano a investire nel 1700 nelle prime grandi industrie, a partire dall'Inghilterra, infatti è lì che nasce, si sviluppa la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, e poi man mano si allarga questo sistema di industrie, di imprese economiche, un po' in tutta Europa, in gran parte dell'Europa, arrivando poi agli Stati Uniti appunto, quelli che diventeranno gli Stati Uniti con la rivoluzione americana. Ecco, questo sistema capitalistico si basa sul concetto di libero mercato, ovvero il fatto che il valore di un bene, di un bene che viene messo sul mercato, è legato alla legge del mercato, cioè alla domanda che c'è da parte delle persone, dei possibili acquirenti, di questo bene. Quindi il suo valore, il suo prezzo aumenterà se c'è molta domanda per quel bene, o dovrà diminuire se invece cala la domanda, ok? Il capitalismo in fondo si basa su questo, non ci sono tanti vincoli, ma le regole dell'economia sono dettate da quanto il mio prodotto è richiesto dalle persone. Il sistema economico del capitalismo quindi si afferma in maniera particolare in quei paesi in cui è presente una borghesia, una borghesia industriale, una borghesia mercantile molto forte, molto solida, con grandi capitali da investire e quindi negli Stati Uniti anche. Gli Stati Uniti conoscono un grande sviluppo economico, soprattutto verso la fine dell'Ottocento, del 1800 e poi all'inizio del 1900 fino ad arrivare dopo la prima guerra mondiale agli anni venti, quando gli Stati Uniti sono nettamente la prima grande potenza economica del mondo. questo sistema del libero mercato, della concorrenza fra le imprese, porta a un aumento del giro d'affari, a un aumento della ricchezza, che però andrà anche incontro a delle situazioni di crisi. La più famosa anche a livello storico è la crisi del 1929, fra l'altro sugli anni venti negli Stati Uniti a livello di società e di economia e poi sulla crisi del 1929, quando crolla la borsa di Wall Street trovate anche delle video lezioni specifiche in cui vengono ripercorsi tutti questi avvenimenti, trovate il link qui sopra oppure in descrizione. Ecco, prima della grande crisi di Wall Street del 1929, l'economia americana, quindi un'economia di tipo capitalista, non aveva praticamente regole, vincoli, ma quando poi questa situazione arriva a una crisi, appunto gli Stati Uniti entrano nella grande depressione, una crisi economica che coinvolgerà in un ossetto domino anche molti Stati europei, ecco allora che lo Stato inizia a intervenire, cioè inizia a porre dei paletti a questo sistema capitalista, in particolare con la presidenza di Franklin Delano Roosevelt, che a partire dal 1933, lui era stato eletto alla fine del 32, a partire dal 33 avvia un cambiamento economico negli Stati Uniti con un programma chiamato il New Deal, un programma che prevede un maggiore intervento e controllo da parte dello Stato anche rispetto all'economia, quindi maggiori regole nell'economia. Questo ovviamente avverrà solo in parte, nel senso che l'economia statunitense e in generale l'economia di tutti i paesi coinvolti nel sistema del capitalismo è un'economia in cui la prima regola fondamentale è quella della legge del mercato, quindi le varie imposizioni da parte dello Stato sono sempre molto moderate perché devono tener conto di quella che è della legge della domanda e dell'offerta. Questo ovviamente può portare a un grande arricchimento, un grande sviluppo economico in alcuni periodi, ma può portare anche a situazioni di crisi, ce ne sono state diverse nel corso della storia contemporanea e della storia più recente, anche per esempio nel 2008 c'è stata una famosa crisi economica negli Stati Uniti che ha portato ad effetti molto pesanti anche in Europa, soprattutto ripeto in un'epoca, quella odierna, in cui l'economia è globalizzata, cioè le economie dei vari paesi del mondo sono strettamente collegate l'una all'altra. Dunque, mentre il capitalismo ha caratterizzato praticamente da sempre l'economia degli Stati Uniti e poi anche dei paesi del blocco filoamericano e oggi il capitalismo, diciamo, è il sistema economico dominante nel mondo, gli viene contrapposto nel corso della Guerra Fredda un altro sistema economico che è il comunismo. Sempre prendendo in prestito la definizione della Treccani, il comunismo è quella dottrina che teorizza la necessità di porre fine alla proprietà privata dei mezzi di produzione, ovvero nel capitalismo i mezzi di produzione sono di proprietà del capitalista che col suo denaro ha acquistato, creato una fabbrica, un'industria e quindi i suoi macchinari, eccetera. Secondo il comunismo, invece, questi mezzi di produzione non devono essere di proprietà di un privato, cioè di un capitalista, ma deve esserci in ambito lavorativo la proprietà collettiva. In che modo? Attraverso o delle cooperative, imprese cooperative, ok, quindi in cui i mezzi di produzione sono posseduti da una pluralità di persone, da tutti i lavoratori di quell'industria, ok, sono una cooperativa, partecipano tutti quanti e sono tutti i proprietari di quella attività economica, oppure attraverso imprese statali, ovvero l'industria, l'impresa, l'attività economica e proprietà dello Stato. Questo perché? Perché l'obiettivo ideale del comunismo è quello di costituire una società priva di differenze sociali, cioè tra i padroni e i dipendenti, tra gli imprenditori e gli operai, e che in questo modo sia liberata anche dalle guerre. Secondo i teorici del comunismo, le guerre fra gli Stati sono dovute alla vita, al desiderio di ricchezza, e questo è legato anche a queste differenze sociali provocate dal capitalismo. Quindi il comunismo, da una parte, definisce questa dottrina economica, ok, questa idea di come dovrebbe funzionare l'economia e come dovrebbe funzionare il mondo del lavoro. Dall'economia il concetto di comunismo però è passato anche alla politica, infatti con comunismo si intende più in generale un movimento internazionale, un movimento politico, ideologico, cioè basato su una serie di principi, che si è posto l'obiettivo di attuare questo tipo di società, questa società che idealmente dovrebbe essere basata su una maggiore uguaglianza in cui non esistono differenze sociali. Il comunismo in questo senso si sviluppa, nasce e si sviluppa come una corrente, una corrente più estrema, più radicale, di un altro movimento che nasce, insomma, si sviluppa nell'Ottocento, che è il socialismo. Il socialismo è una teoria politica che è finalizzata, cioè che è come scopo appunto la costruzione di una società che è fondata sulla solidarietà tra gli uomini, tra gli esseri umani, ed è diretta ad assicurare l'uguaglianza economica. In che modo? O abolendo la proprietà privata, cosa che appunto riprende il comunismo, oppure comunque sottoponendola al controllo pubblico, al controllo dello Stato. Se vi ricordate abbiamo detto nel capitalismo che lo Stato non deve vincolare troppo, non deve controllare troppo l'economia perché l'economia deve rispondere alla legge del mercato. Invece, secondo l'ideologia del socialismo e poi di riflesso anche del comunismo, lo Stato deve avere un controllo molto rigido, molto attento su tutto ciò che è l'economia e tutto ciò che è il mondo del lavoro, ok? La figura chiave del comunismo è un filosofo tedesco vissuto nel 1800 che è Karl Marx, che vedete qui rappresentato in un monumento, accanto a Friedrich Engels, l'altro suo collaboratore. Ecco, questi due autori, Marx ed Engels, questi due filosofi, scriveranno il manifesto del Partito Comunista, che a metà 800 pone le basi di quello che deve essere un grande cambiamento sociale. Nel 1800 appunto le rivoluzioni industriali e il boom del capitalismo hanno provocato anche grandi divisioni, grandi tensioni fra gli imprenditori, i capitalisti quindi, e gli operai. Queste divisioni sfociano proprio in lotte, in richieste da parte della classe operaia, cioè del proletariato, di maggiori diritti, di maggiori garanzie. E in questo senso Marx teorizza la necessità di una rivoluzione proletaria, ovvero in cui siano gli operai ad assumere il controllo delle attività lavorative. Il socialismo e il comunismo ottengono anche un grande consenso a livello politico, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 1900, portano effettivamente a grandi cambiamenti, anche a miglioramenti, perché favoriscono per esempio l'approvazione dei sindacati, insomma sostengono diverse rivendicazioni della classe operaia. Però la prima volta che un sistema comunista, di economia comunista, viene applicato davvero in maniera totale, diciamo in maniera completa, è dopo la rivoluzione russa. Anche di questo abbiamo parlato di un'altra video-lezione. La rivoluzione russa che avviene nel 1917, appunto in Russia, spazza via il vecchio sistema politico degli zar, vede l'emergere di questo partito comunista con a capo la figura di Vladimir Lenin. Siamo nel 1917-1918, il periodo in cui appunto c'è questa enorme trasformazione in Russia, dove abbiamo l'economia, i vari rami dell'economia affidati ai Soviet. I Soviet sono queste organizzazioni, questi comitati di lavoratori che assumono il controllo dei vari settori lavorativi. Quindi è l'idea del comunismo. Non è il singolo imprenditore, non è il singolo capitalista possedere fabbriche, industrie, eccetera, ma c'è una gestione collettiva, una proprietà collettiva, ok? E lo Stato è ciò che possiede tutte le attività lavorative. È il sistema che verrà definito appunto dai Soviet sovietico, per quello poi si parlerà di Unione Sovietica, questa grande federazione che nascerà di lì a poco, e si parlerà di Repubbliche Socialiste Sovietiche. URTS è la sigla di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E questo modello comunista, in cui tutti i rami dell'economia sono gestiti direttamente dallo Stato, appartengono allo Stato, sarà poi imposto a tutti i vari paesi in cui si formeranno regimi comunisti.